Contro di lui, all'angorosso, Massimiliano Bumbu! Camice giallorosse della rivoluzione calcistica, uomini e donne di tutta Roma, romanisti spazi nel mondo, oltre i multi e oltre gli oceani. Ascoltate! Massimiliano Bumbu! Massimiliano Bumbu Bucari! La BBT Production, in collaborazione con la Lega Pro Box, presenta un incontro internazionale sulla distanza di sei round, valevole per la categoria pesi supermedi. Arbitro d'incontro è il signor Paolo Ruggeri di Terni. All'angolo blu, in pantaloncini tricolori, al peso di 75,200 kg. Il suo record da professionista è formato da sei incontri disputati. Cinque vittorie per lui, due delle quali per K.O. una sconfitta. Per il team vice Bordeaux-Arcachon, da Arcachon Francia, Baptiste Castagnaro. Contro di lui, all'angolo rosso, in pantaloncini argento, al peso di 76 kg, con un record da professionista formato da 17 incontri disputati. 15 vittorie per lui, una delle quali per K.O. una sconfitta ed un pari. Già campione e cospidante al titolo italiano dei pesi supermedi. Al suo angolo, Marco Di Gianfrancesco, Gabriele Venturini e il Catman Federico Cadizzone. Per la BBT Production, da Roma, Massimiliano Bumbu Bucari! È la prima ripresa, first round! Siamo tutti i diversi! Vai Massimiliano Bumbu Bucari! Vai Massimiliano Bumbu Bumbu! Sì, effetti sono tutti i diversi! Io hai lo che dicevo, però mi fai fare a fattarmi. A sei mani a fattarmi, a sei mani a fattarmi! Vai Massimiliano Bumbu! Vai Massimiliano Bumbu! Guardi! Grazie mille 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 Grazie mille